Grazie a tutti per il gruppo e alla vostra disponibilità! Io inizio porto un saluto di tutto il Carnevale, non solo della Provo di Basto Agricola, ma prima di me ci sono i presidenti dei rispettivi ordine, ordine delle donere, chiaro usare e diciamo proprio Germani, ma ne dico ancora negli appalti, per fare un saluto a tutti di voi nel senso della tradizione, nel senso che sia la Prologue che questi due rispettivi ordini hanno un obiettivo comune, quella di proseguire con le tradizioni e portarle sempre avanti. Io saluto innanzitutto le autorità più presenti, c'è qui il nostro sindaco, Claudio Castello, grazie non solo della presenza ma per tutto quello che fa per il Cardenale, saluto il consigliere regionale Gianluca Cavazzo, la sua presenza è per l'aiuto regionale per i Carnevali Storici, saluto il vice sindaco di Canuso che accompagna Luca Chiaro, che accompagna la giffa Elba Luce, Forza Agra, grazie per la vostra presenza. Saluto le forze dell'ordine intervenute, il capitano della compagnia Carabinieri di Tivassi, capitano Giugna Giancolla, e come ospite anche il maresciallo della stazione dei Carabinieri di San Giorgio, il maresciallo Antonino Fragari. Grazie. Questa sera abbiamo anche uno sposo della serata, che sono i nocciolini, non potevano mancare sicuramente, e sono stati omaggiati dal dolce caramese del Bruna Milanesi, cui gli dedicherei un applauso e realizzati alla dolce carina della nostra bella donna, che è la domenica di Tivassi. Ringrazio anche il giornale La Voce, che ha voluto omaggiare la serata per un'iniziativa, un'iniziativa che vuole premiare Miss e Mister Carnevale, quindi troverete sul vostro posto un tagliantino da compilare con una penna e da consegnare ai ragazzi della Voce che sono seduti nel loro tavolo della stanza più di franco. Ovviamente sono esclusi dalla selezione in perso l'accordo del 2020, perché se no non ci sarebbe storia, giustamente. Quindi grazie anche a voi in questa iniziativa. Io voglio solo concludere con un grazie e un saluto alla Corte 2019, a Giovanni Edoardo, che tra pochi giorni lasceranno il loro scelto, e salutare e ringraziare. Mi disse uno perché è tutta la loro morte, perché stanno facendo davvero bene, ed è veramente bello, bello festeggiare questo Carnevale con due personaggi.